Dein vita, cosa vuol dire dein vita Dein vita Comunque buonasera, buonasera, buonasera Buonasera Anche questo è un motivo per il quale non ci sarà Il best of, si Ma c'è l'unica droga che mi fa supportare la vita dopo porno Va bene, va bene Sperate che non mi ricordo i tassi? No, anch'io Ok, no, adesso me li ricordo Scusami, sono prossimo all'amore Ragazzi, mi sei sconnesso, non mi parte il controller Ma scusami, ma ha funzionato? Fino adesso, per giocare non ha funzionato? Come funziona? Ah, coglione Dado sta prenderti Bravissimo Dado Attenzione, Dado recupera Attenzione Aspettate, no Prima di partire Aspettate un attimo Eh, sì, ora dico al gioco di aspettare un secondo Eh, ragazzi Ma perché? Dai, ma sei un po' stronzi Comunque lasciatevelo dire Ma non si può non partire Si chiude l'unica In realtà poi Ma sì, Dado, si può Basta stare un attimo fermi Abbastanza easy Ragazzi, potete dirgli in live che non si può non partire Stai fermo Perché non va? Ma scusate, ma è andato fino adesso Evviva Ma Dado, ma sei acquaco in fiamme? Sì, l'ho preso a posto Ragazzi Non va neanche la tastiera, Dado Non va nulla Ma adesso la tastiera è andata Ma non capisco Riavvio il gioco Eh, non so che dirvi Vabbè, rifacciamo la partita Ragazzi, non è la video di unicorgi Blah, 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 blah Blah, blah, blah Marco che vomita Che bello Si Ma come andiamo e vomitiamo insieme? Mamma mia, Dado, non vedo l'ora Mamma mia Cioè che vomita Non ci piechiamo mai No, no, no No, no Noi vomitiamo perché siamo male Di nostro Si Si, si Soffriamo di gastrite noi Che Dado ha scritto già No Io non l'ho scritto no Eh no, si sgheco Allora, mo Ha ripreso ad andare Comunque Gli audi vanno bene Spero Cioè Fino almeno è andato Ok, adesso va Io che l'ho anche aspettato Mi sono fermato, dai Aspettiamo Dado Ok Ci siamo tutti Marco Cercello Io ti riprendo Buonissimo Ren Masso nel culo Ok Ah vedi Sono i gusti personali di Luca Questi eh No, sbagliai No Marco Non dirlo Dove so Dove so Ciao Bigfoot Ciao Bigfoot Palle velocissime Chiedo sempre perché non si sa mai Pam pam Perché è tornato indietro Eh perché l'ha fatto all'indietro probabilmente No no, non l'ho usato io Ah E allora non saprei cosa dirti Sei veramente un cane Stozzale da Boom Ci ho condannati Ci ho condannati Sì che Quanto all'entità Cosa Marco che muore E vomita anche Quanto lungo Quanto lungo Scusa Io mi ravo a te Vaffanculo Era un attimo Oh io ho dato una capocciata Niente ragazzi Una giornata Ho sbagliato Che si infilano Sì che Aspetta Luca Aspetta Luca Quanto veloce Non mi avrai Guarda che non muore Non mi avrai Dove sto finendo A destra A destra Sì sì A sinistra Guarda mi dà consiglio Al che amico Di ferda Grazie Spadoni Sono in super velocità Aiuto No Luca Ah tutti io L'ho presi Come funziona Grazie Eh no Non mi sa 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 Arrivo io Non vince Con uccidenze Chi è arrivato Ho sbagliato Il cosa E invece Che ti Mi deludi Invece Accetti Dovevi arrivare Più spesso Ti prego Ti prego Ti amo Mi arrivo Bravo Dado Eh non mi ricordavo il tasto Eh vabbè lanciatemi pure Padre Pio ragazzi Voglio Padre Pio Va bene No Tutto Marco Eh avevo saltato troppo presto Eh Come Ragazzi Sono morto Marco anch'io Ciao Dado In realtà no Ciao Marco In realtà no perché ho preso delle casse Perché non vedo Vaffanculo Mancaaschi Vaffanculo Mancaaschi Ma noi ragazzi siamo OP Eh sì Voglio riuscire un'altra cosa Eh L'uomo che non l'hai preso Te ho preso io E quante scatole hai messo Spadini qui Quelle non le ho messe io Vaffanculo Wuhuu Anche tasto si sprintava R2 Grazie Figurati Un controller Ah Non è Anche io ho un controller di Xbox Anch'io Eh ma R2 Eh ho capito Però R2 Non me lo ricordo mai Quindi va bene Ah No di qua perché non c'è Oh no Saper esplodere il tutto Il tutto Nennennennennennennenn Eh vabbè L'ho preso io Marco di nuovo Marco Ah No L'ha schivato il cane Grazie della spinta Figurati se non piacere No Dado un po' tiro P Ah Ciao mamma un po' tiro P Eh no io sono morto Niente Voglio di non darti più ai alimenti No 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 Eh no No perché non si è chiusa abbastanza in fretta Che culo Ma vaffanculo No Guarda che ha preso la velocità in tempo Non ci credo No Andate a non farlo 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 Spadini ti prego di fermarti Mi arrivo Allentato Mi arrivo Giù Maremma mia Perdona il mio comportamento scurrile Marco Cercello Sono io Bravo Luca Mi l'ha dato a Marco Edua Mi l'ha dato No Mi ero abbassato Eh a quanto pare no Io vi giuro che la mia vita È fatta di sbagli E cattive No Sì Ma non è vero Che aveva il cazzo Davolo capito in un altro Sì vabbè La c'è Ma vaffanculo va Davolo si ferma L'ho saltata Di vantaggio così almeno Quando vi straccio Tipo ora Non è vero Che non sei capace No ma guarda che ha preso Luca Il turbo invece di me Correrò Quanto sono combattuto Questo è partito No Troppo D'andamore ma che Che cacca Che cosa da fa Sono d'accordo No Grazie Grazie mille Chiunque sia stato Oh no Bravo Luca Eh beh Non vedo Devi ricordarti Non devi vedere Dato è il missile Che carda Grazie Che carda Che carda Che carda Bastardo Ragazzi Saper dire una parola Davvero terribile Ciao 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 Muffin Ciao Ciao Se non leggiamo ragazzi Ma sono combattutissime Ste cose Tanto non scrivono No Stupido pazzo Grazie Grazie che mi hai aspettato Mi sarebbe essere incastrato Stupido pazzo Merca le dì E che palle ste cazze Ogni volta Eh oppure Eh oppure Quella cazzo L'ho messo io lì Se lo usi adesso Sei un pazzo No Ciao 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 No No Si è una figura La fine ci mettere la merda In questa Sì anche secondo me L'aiuto molto Ma No no ma adesso Non era No no 95 Luca Giù Vabbè Marco Io sono andato giù E no Davo Luca Da un'altra testata E mi sarei infilato Nel pisello E passa la macchina Mi sto mostro Marco Sarà per nostro signore È stato Tutte Guardala No stuca No stuca Ma cosa fai con i piedi Degli Mi fichi in culo Come sempre Nulla Nulla Una sega Vabbè Tanto io direi Visto che No E il gioco è da 4 Se qualcuno vuole unirsi Se qualcuno vuole unirsi Se qualcuno vuole unirsi Parlare bene Ragazzi Sparini ci ha tappegliato Eeeh È arrivato Che ora posso impegnarmi Avevo il controller Era attaccato ancora Era in carica Ora Ora Non devo più tenerlo Attaccato al cazzo Al cazzo Ciao 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 Poi sono l'unico da andare Tutto tranquillo Ragazzi, se vuoi andate sempre a destra, è un problema vostro, io guardo sempre a sinistra No, non ho più troppo nulla Oh no! No, che stupido pazzo! Si è andato a sinistra, dovresti saperlo Guarda Luca, continua a spammare i rampion Eh sì, perché tanto c'è sei C'è sei! C'è Seul Salutiamo Seul Ciao Luca Sì che Marco, 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 cerchietto nato a Pesaro Eh sì! Sì! Che morte disonorevole Oh no ragazzi, cos'è quell'esplosione? Ok Gammare! Gammarei? Quanto è l'anticipo io Eh ma pure! Il purè! Ehi Luca mi aspetti cortesemente No, ti culi Luca la vanda è che hai imparato questo linguaggio Ma te stiamo startando? Ah ok, pensavo nel nulla Luca che ti? Luca? Eh ho preso l'oggetto Abbassardo Ma guarda Tanto sapevo che mi faccio la spassare A spassare Ma guardate No Ragazzi Ho dato un accragnato sul muro Ma perché l'hai preso te? Non è vero Guarda Ma eravamo schivata Dio santissimo Onnipotente Signore del cielo Pure della terra Pensate Pensate Addirittura Pensate quanto è forse Noo il marchino Ci ha dato Il santo padre E' partito No Eh dio santissimo Sei il mio migliore amico Per favore Non adesso Ciao Luca Bravissimo Aspetta Mi aspetteresti? No Dato battilo Dimostra chi è il più forte Provin No Tra tutte e due Tutte hai preso No Dai voglio prendere anche te Dove? Il cazzo È dato Oh no Niente è dato È stato un piacere Addio Simi Ha fatto un barco Sulle casse Facciamo Lo spadini Sei uno stronzo Lo sei vero Luca perché Hai insegnato le cose? Dado il primo Eh sì Ma tanto dura poco Non ti preoccupare Corri spadini Corri spadini Stavo per dire una cosa Terribile Terribile Non sono finito Corri Dado Gammare Chi è? Sentiamo Obo Martium Il santo padre Chiede perché nel telegram Ci è una marea Di SI Cosa? Di cosa? Non lo saprei Una marea di SI SI? Dado Sì Ciao Ciao Gostardo Bravissimo No Bravissimo Mamma mia Dato Dato Minchia Ciao Morinix Ciao Morinix Ciao Morinix Siamo tutti molto concitati Devo dire Con 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 citati Con citati Con citati Niente abbiamo perso No perché ha Tirato una botta Usa quel coso Eh uso il pisello Di mia nonna Sono ancora in gara Io non so come Marco Marco Spadini Lasciami stare No 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 Non mi avrai Bravo Spadini Ho preso Uno spicolo Volevo prendere l'oggetto Santo padre Perché io Bombardo telegram Di SI Ah di sì Maronna Io ho pure il letto E se Anche stasera Mi sono riempito Abbastanza Di Acqua diversa Di best pure E di cerchi Ma C'è Luca che mi spanno il culo E anche Dato A volte Prima ha fatto la giocata Dato Che assurdo L'unica della serata Aiuto Come Aiuto Ovvio no Che stronzo Che Diro una testata No ma non ce l'ha il cosi sta continuando a sfumare perché sono andato di là accidenti a no cercello e a chi lo venera ragazzi è proprio una religione che si basa luca abbiamo sbagliato mamma mia luca per fuori fammi vedere avanti ieri di perfetto o no tutte o ma dove cazzo è andato quello scusate ma è fatto quasi bene guarda guarda come perdo di nuovo perché adesso mi ferma il parco lo no il parco che ci segue sempre sparini sei un uomo scellerato dado ci sei mi sono girato era in fondo ve ne prego come dite lo tutti che marco citta per favore no cercello nato a stantio a stantio a stantio si in provincia di pesaro ovviamente si 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 sempre da dove vai ma che cazzo ma aspettate ma anche voi ma perchè fa eh ma perchè sto leggendo la chat nooo duca aspettami per piacere no 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 ti inculcule di nuovo tanto ti piace no nooo spadoni di quanto poco marco sei per caso la scimmia di tarzan perchè? boh non lo so l'ha chiesto giuslam eeeh si dove sono? stasera sesso chiede spontify ciao spontify certo spontify certo muoio io sesso nudo ah no si muoio l'ha chiesto perchè dovrebbe essere la scimmia di tarzan non ho capito? siamo ancora in fascia no la fascia finisce alle 10 la fascia 10 e mezzo 10 e mezzo ah io non ho detto niente ciao giuseppe lamantr martr lamantr siamo in 16 ciao 16 ciao 16 ciao 16 quanto ti risse hai dato? ciao 16 eh ragazzi io non riesco a giocare mi sento alice in questo gioco io non ve vorrei vedere dove andiamo andiamo senti uccidiamo quanto gattivo si io spadoni tanto tanto so dove abita ehi nella villa più grande di livord guarda fosse vero luca abbiamo visto foto di casa tua e io ho fatto tipo oh mio dio sono morto ahahah vabbè che hai fatto anche il mio dio con casa mia che non è niente quindi cosa ho fatto è cosa tua? cosa mio dio aiuto c'è un menù davanti e appunto ciao luca vede mi s'era aperto un menù davanti che palle sta maottendo sta maottendo dopo due bombe due coglioni guarda il nuovo super robidi due pippo dopo due bombe mmmm mmmm ciao dado wuhu Simi ma sei fortissimo basta nooooo nooooo che urt wuh uuh uuh dove similuomo chiamato riflesso magari marco andare chiamo di nuovo su rock e tu modo davvero mi manca se io arrancare stasera dai marco vaffanculo luca del marco cita a un mio dio si muoreva nirti quindi ma cazzo non stavo guardando un idiota la nuova razza di mancare ma cazzo sì ma cazzo piri 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 corriato corre prima di quello ci prenda dove andiamo dato ciao quello che ho capito ma 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 guardate chi ha fatto che la risa dalla scusate vado acuto sapete com'è i riacuti come ribalzato io notato bimba ma bordo ma dove cazzo sono santo di nuovo e partiamo uno perforato addirittura niente dato mi dispiace no ero distante a guardare chi è che aveva il rampino e me l'hai buttato in culo come nella vita vera gambaret si distrae un attimo a vedere i rampiti e ce lo beccano il culo si addio luca no ma gioca le simulazioni dei lombardi che scappano dal coronavirus esattamente ho sbagliato anche se mi dissocio ma in realtà si può bellissimo dire non c'è ancora nessun divieto ma tu sei davvero nato stupido ma tu sei stupido ma guarda la mia vita quanti sbagliato guardatevi tutti per so per capire le citazioni sì 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 perché noi siamo talmente stupiti che ci citiamo da solo lì esatto bravo dato applicato che siamo in otto quindi ma questo c'è terrenzo e dimmi sono io come dissocio adatto a un pubblico di minori ho dato una capocciata o di nuovo apritemi aprimi anche te grazie diamo figurati spadini c'ha il ghiacciolo eh sì tanto voi siete in culo bravo luca come marco quanto sei io è venuto di comunque mi dissocio credo ci sia uno streamer che è stato beccato a fare cose in live sì no e la cosa bella è che me ha suggerito google anche il video ma tu guarda la mia vita quanti sbagli sì no grazie hai vinto bravo dato ho spaventato il mio gatto su di applaudire tre coglioni comunque ma è ancora questo invece corrisime è un police squadini ragazzi ma sono l'unico senza la velocità divina bravo prendi le scatole stavo per chiamarti due piedi magari ma io la dovevo smitt... Dado quello vince tutti e due devono farla apposta ma io l'ho fatto delle volte io l'ho veramente perforato io l'ho fatto una streamer si è detto che sono hater usciamo invitiamo anche... ma Simone vuole giocare quindi? ma boh l'ha avviato che testo dove distorciava dice? non so non vuole giocare Simone hai tre secondi per dircelo uno due due eh niente è partito mi dispiace Simone niente non risponda ma chi è stazione che si infiltra? vero siamo in un parco a temantre eh? e io ho preso un muro e io ho preso le casse e che palle DADO VOLA ahah 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 io ci ho visto volare comunque perché sono fortissimo Luca no Cazzo bravissimo eppure e che cazzin grazie eh vabbè eh berberbarto come? grazie berberbarto io ho mandato due da me ok si vabbè dai la prossima ti preoccuparti spadini tu devi fermarti nel nome di cristo nostro signore bel giro Marco che hai fatto nooo ciao Luca sto a metà della strada ah ma dai ma come sono morto ma che vuol dire ah vorrei da seguire che questa skyro c'è stato ehm no DADO tranquilli mi riprendo tutti guarda guarda c'è ripreso l'effetto ma perchè me scusa ah io ero abbassato lui era una scatola di cartone ma pam marco cercello sono io la tua pisa centrale ah si di stazione eh niente ci ho sperato ma niente addio DADO DADO da dove sei qua ciao sta sotto sopra ah ma non è vero te l'ho preso non è vero mai ma sono bravissimo e fortissimo e purissimo e levissimo non volevo fare ops ma guarda questo che c'ha sempre il rampino nel culo bravissimo spiderman no è lucaman 99 ma aspettatemi ma va proprio te dove cazzo ride? CORROOOOO CORROOOOO per 5.000 secondo non farlo hai per te prego no non posso schivarlo eh no mi dispiace ci ho sperato corri cerchio laggiù PIPPIRI PUMBOLA eh PUMBOLA ragazzi la prossima la vinco io credici Apollo credici scusate una battuta di merda si tanto marco MEI avevo saltato DADO BLOCCALO merda ha vinto è stato un piacere è stato un piacere ma vai in culo Luca Spadone Sfadato io mi fidavo di te che la vincevi no ha detto la prossima non questa ma va in culo ma apro lui proprio tu MA DI NON ME LA BUTTARE ADDOSSO non è vero non è vero non è vero vuoi farlo vedere chi è in occhio hai rudio madonna dai cosa ha fatto ha pannato per 500 mila secondi a Chetty puoi sbannarlo per favore 500 mila ho vinto marco tu devi riavviare la connessione transo transo dai invitiamo Grincuno ah ma gliel'aveva chiesto a Chetty sì sì io santi simone si sposta qua sì ma sì beh scendiamolo qui Simo ti si sposta non vestiti per Simone aspetta ciao mi sa che lo devo alzare ok ho mutato la live aereo non merita in modo la passione simone saluta la chat intanto scusa esatto ciao persone in chat ecco io non lo so i giorni 18 ore credo poveraccio che simone quando vuoi io ho accettato non è vero in una cosa vuota non è colpa mia è il problema che davano e la volta su lo alzo ancora di più Ale alzalo che non si sente ok ciao simone mi saluti chiede Giuslam ciao Giuslam salutalo adesso è il mio mod eccovi ma guarda simone che ruba il cosa di Luca quando streamerai vai simone fai l'unicorgio vai perfetto no no devi fare l'unicorgio che mai serai ovviamente però metti di pronto no come annullate sei morto meglio senza Luca si vince comunque ragazzi i volumi vanno bene anche adesso anche a destra no a destra mai infatti solo a sinistra quando no mi fa il bug che dava Simo perchè sono in una lobby da solo perchè a colpa di simone si è arrivato lui io ragazzi silenzio simone comunque no niente perchè sono da solo ora come l'hai risolto di Simo allora io ti denunzio eh? Simo come hai risolto il fatto che eri da solo mi son fatto rinvitare eh ma hai rinvitato tre volte ti rinvito? ecco eccolo eccomi eccomi soprattutto a sinistra sempre 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 no mi ma ma perchè io devo sistemare lì? è importante quando cominci a premere delle cose che sai che non devi premere però no no sono in lobby da solo rinvitami Marco ti capisco no aspetta un attimo ok qualcuno si deve cacare addosso perchè ora è il momento no sono in lobby da solo rinvitami no sono in lobby da solo rinvitami Marco puoi chiamare la signora marina e passarlo no devi aspettare un po' poi devi aspettare un po' dopo l'invito rinvitami io e poi madonna e poi cristo ok aspettiamo un po' ragazzi che vi raccontate? no 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 devi entrare in una partita e aspettare che carichi la lobby ok dagli un attimo vedi connessione alla stanza ciao chiamo Artium Marco Pesaro ti ha tolto la cittadinanza nooooo raid Simone Greencube poi non è così con lo slash ma non diglielo e poi lo fai e viene bannato simon quando vuoi? quando mi arrivava la raid il raid? simone li sai ai tasti? sfortunatamente si ok ho fatto le parole simon io non so parlare dato però che sto a chi ha le parole non vogliamo che la gente ci prenda per un branco di ignorantoni questo per colpa tua ti stiamo dicendo occhio a usare le parole giuste questi suoni orribili io oh ma io ho problemi con l'italiano lo sai cacchio sei trucco trucco che ho detto? trucco non c'è trucco non c'è ingana cazzo io ce l'ho da tipo 20 minuti sul luogo quindi se sarebbe fatta veramente schifo ciao Simone scusa mia grazie Simone che mi ha fatto vedere che c'erano le spine non c'è di che marito aaaah qua ci sono delle scatole Simo anche lì le hai sponate te anche qua aaaah si le sento io le sento Simone hai appena vinto sappilo no ok si è la prima volta che gioco con qualcuno mi dissocio di Simone Simone era per farti credere di essere bravo adesso ma io chi sono io sono il primo stavo guardando dietro via sto guardando dietro Gado ha usato il piripacchio di Mario che in realtà è un un proiettile cosa? è quello il proiettile di Super Mario eh di Mario Kart dove dove io perchè sono aperto dove si trattano tutti guarda Marco danno il trapano wooo ragazzi aspettate è Marco il problema ma certo sempre colpa mia no? ovvio senti che dovrebbe essere da colpa cosa vuoi che cosa cazzo vuoi come l'hai schivato come ti ho come te l'ha conterato ciao duro io stavo giocando guardando luca gg ma pure quando eravamo io contro te giocavi luca guardavi luca no giocavi luca cosa ho detto come e no scusate e no e no e no non fare domande non fare è arrivato simo sto giocando male simo puoi riandartene luca sia a luca piace simo a luca piace simo luca mi vedo distratto e marco ma non è marco ma io ero basso per favore che se basso lo sappiamo simone culo verde ah no ha sbagliato il potere c'è un sacco corri dato corri 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 mi ho saltato a caso bravo simo grazie meno male che ti ho preso ciao marco ciao dove cazzo toccato di qua vieni mi pare che qua bisogna saltare no abbassarsi quando bisogna saltare corri dato no no giù su giù no si cosa è successo corri corri ok vedete dato no mi pro te eppure ah io voglio altro eh io non mi fermo più io non mi fermo più niente ho ucciso Marco se ragazze erano andate alla simone green cube e te puzzetta ciao domani alla solita ora dite salsiccia maremma maiala guardalo guardalo guarda cubo verde ragazzi e guarda Luca che sbaglia il tempismo bravo spadino corri cubo verde bravo spadino uh come ha fatto bravo spadino dove sono entrato bravissimo mamma mia cubo io vi consiglio ragazzi quel missile vola no ehi che rumori tutti brutti per fortuna non li sento doppi tramite la live guarda dado guarda dado perfora tutti dado masso perforatore scusa ma vai in culo vai guarda via in culo boom boom dub 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 batti il novizio stronzo pivello ecco Marco sei ridicolo dobbiamo dire quante ore ha marco rispetto a noi su questo gioco tipo una quarantina appunto io ho meno di 20 minuti su studio state zitti ragazzi sono scarso ok ho una curva d'apprendimento molto bassa ovviamente come non sono stato preso io dal trapano eri con il trapano no no io non so che era col trapano è stato salvato dal mio rampino dado vado ma vai in culo ciao luco eh 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 anche te ci confondi si sei uguali un pro dove oh no quali come sono veloce io innanzitutto sono italiano eh si anche io in realtà aha no sappiamo tutti che non lo sei insieme non dire cavolate NON DIRE BRO DAZZI quanto stanno i rampini io mi sono fatto due volte due volte il giro nel dubbio due volte il giro nel dubbio ma come mai marcolla davanti non lo so ho puttato tanto di fuori cosa avevi detto molto scarso e scarso ho detto in parole povere si scusate non so leggere ragazzi guarda lì ma l'hai schivato boh io ho premutato triangolo poi non lo so cosa è successo triangolo o Y è quello eh non è vero perchè il quadrato è X e come lo mettiamo non ci possono essere due X sullo stesso coso i hip i hip mi hai preso tutti marco tutte grazie sponini poco lancia qual pazzo ciao marco stava caricando lo stato molto basso se è scarso ma è verissimo c'è veramente pena a prendetelo in culo come me in questo momento no cercio essi pure non lo so luca suicidaci dado tieni altro non le decorgi così bravo sono l'unica perdona che riuscito a suscitare un'altra persona io quindi bravo dato vai tarzano tarzano girati a file super falora così bravo giù così mamma mia dato mamma mia dato che scatta che grata solo perché io poi mo x invece che b per usare non mi avrei e da che distanza scusami neanche l'avevo visto sono veloce io dove sono ah ero in alto io chi sono ok quello brutto sei e fin qui non mi son perso lasciatemi un potere grazie mai non volevo te non sapevo avessi il cazzo ah le palle pier pollo ciao sparini ah no c'è anche pensavate di avermi a pensavate di avermi a e dietro un moro non ne manca un male di cano sino se no cazzo prima vedere ai che ragione aspettatemi scusate un attimo sta arrivando grazie dell'attesa vabbè quanta roba ma ti piace come tornato le scatole che c'erano si infatti mi vedete ma vai in culo vai una vita di tutti andiamo ma come sta saltando sto imbecilla imbecilla si volevo far sentire a casa marco guarda un'implicazione random penso pier pollo si ah sono parole che dico a caso si è lui ogni tanto per non dire parole terribili live dice parole a caso niente boom il problema è che quelle parole a caso spesso sono persone no ciao a imperi ma sei scemo mi stavo uscendo novarese minnolo ciao a buone ciao a buone mi sono già 47 mamma è credo da 47 minuti luca che cazzo stiamo facendo ragazzi mi lasciato mi lasciate mi lasciato parla italiano se non lo era un po ciao da tutti aspettati grazie a me non mai aspettato però sono non so se zitto ha funzionato l'ho preso beh se lo mancavi era non lo farai bravo non l'ho fatto no e Dado vince come prima ha vinto Marco ragazzi non fidatevi del cosa che avete appena visto non c'ho il ghiaccio sono morto infatti grazie, grazie mille sono morto io guarda ma io sto ricordando il personaggio sbagliato di nuovo mi hanno fatto esplodere troppo cazzo sono enorme e rosso come faccio a non vedermi sono enorme e rosso ora parli quasi del mio pene se non è che non è enorme però è rosso dove vado come il gheridos di mi aspettate per favore no ma io ho sbagliato persona guardavo guardavo Dado io vi detesto oddio guardavo te come rossi non si lava Marco vero? sì concordo confermo concordo simone abbassati eh sì eh ho preso la mia stessa cassa dopo ragazzi occhio a spadini a una palla marrone no non è vero non ce l'ho più no che fatica Marco Picello chi prenderò? no quello giusto eh sì quante quante scusate ho visto un muro tutto per te tra l'altro sì infatti guarda lì vai vince anche te simone così facciamo una vittoria a testa bravo no non ho vinto simone io ogni volta rimango fregato da qualcosa bravo Luca eh no ma perché falle molto di tanto buona fortuna sì I wish you good luck good luck no corri spadini Luca Simone Giampiero eh Pancrazio no Giampiero ho detto ah mica avevo visto aveva il potere te aveva il potere te che paura no al potere stronzo non quel pargolo no la cassa usa le scatole di sambia di sambia di sambia di sandria che figura chi sono il potere c'è ok quello in fondo non più gambare gambare non vedo eh vabbè quanto se non aveva ancora un po' di velocità ma io vorrei un potere almeno oh ma un'altra volta sto potere grazie e Marco sbaglia mi sbaglio sempre quello ma è troppo banale andare dritto come è possibile scusa non lo so ti avevo preso benissimo lì eh ok non morirei ah uh eh né mi si è fermato Marco ti si è fermato Marco ma che cazzo dici io non sono morto ma non è vero secondo il gioco sì ma non è vero io non lo so non posso confermare grazie Marco ma ho preso anche la velocità merda no e la chiude così ma perché Spadini dai Luca con noi perché sono troppo bravo avete ragione dovrei fare i competitivi ma i competitivi Luca ragazzi per favore quanti di voi non vedete Spadini fuori dai corgi io io no 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 il posso quello della clip aiuto no aspettatemi ciao Simo ma si guarderà ancora morto è la prima volta che faccio sta mappa anche noi non mi avrai in una clip su non è vero bravo Simone Spamma il Tails ma io sono nato stupido per caso provabile la fate sono nato stupido ma è vero dato di nuovo wow e allora la mia mamma si chiama Marina adesso segnalo cercello segnala non so cosa sto vedendo io bravo io gasparino lui che è quello che tira avanti la baracca può non vero cose Marco sono io ho fatto tutto salto non è vero ma porca mignotta coglioni usa un filetto addosso al missile per dado ma no eh va bene Marco se ne avrai internato idiota ma vai in culo vabbè no marco vinci io ti picchio vabbè no è sempre io sui sui in amicizia vado a Roma ho sbagliato ho sbagliato di nuovo wow il laser il laseroni no ma poi lo abbraccio fortissimo bastardo no voglio eh niente lascialo parlare ahia ma perché devo testare i miei limiti Marco si mi hai cresciuto il pc mi sono perso qualcosa Marco che urla e Luca che vince io che perdo no dai Marco non sto vedendo no neanche io dove stiamo andando Marco premi B per favore merdi ho premuto triangolo comunque guardate quel missile no no sapete che punta a Luca mh ha puntato a me mh ha puntato a Marco e madro puoi il ritorno di fiamma a te vabbè sono morto aspettami Simone io non ci credo in questa volta non riesco mio bel potere Simone ce l'ho la prima no mamma mia Marco cercello ti venisse il capo il capota il capotto ragazzi spero non parte dal missile ma come è perché sono fatti dall'ingresso però un altro avete rotto il cazzo eh quanto pochi riflessi boiore no oh come cavolo non sono uscito io qui cosa come qualcuno si è strutturato l'ha fatto ho imitato Luca come imitami questo no prova a imitarmi anche quando vinco ah no non ci riesci ma hai appena morto tra l'altro hai appena morto è appena morto ciao taxi come si vabbè la maremma non mi so riuscire a tirare che devo fare schivare i missili ma Dado secondo me uno dei due vince ma tu dici e credo che sia spalini ah cosa non corre abbastanza corri un mino nero 100 più 100 tina tina nera vero Luca è la tuttina nera è vestito di nero però dire vestito di allungava la frase no no certo mi dissocio da Luca Spadone dai facciamo l'ultima io lo segnalo cazzo diciò l'ultima ho capito Simone pensavo stessi per dire io l'ho sognato cosa Spadini Luca no ma sei pazzo ma sei pazzo chi vuole essere sognati da Simone scusate ma è tutto un rampino qui tutto un rampion che cazzo sono ok quello scatola fin qui però stessi per dire quello scarso mi so permettere a piangere no quello è ahhh dall'altra parte ragazzi ragazzi siamo fortissimi vabbè continuate pure lo spigolo prendo ti piacciono gli spigoli in fronte per darli alle altre persone perché li prendono in fronte scusami non hai il senso no perché aprirò il testo per vedere se fanno male esatto ah ok no e poi li regalo cioè li smusso così facendo ciao 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 Grazie.